Entrare nel mondo della moda è una grande sfida, eppure Ruslana ce l'ha fatta grazie alla sua bellezza e alla sua grinta. Una meta ambita da tanti, quella di diventare il molto noto nelle passerelle, ma come tutti sappiamo, non sempre quello che è lucica è oro. Io sono Arianna e vi trovate sul canale True Crime che tratta del lato più oscuro della nostra società. Io sono Selena e rubrica notturna nasce per dare la voce a chi la voce non l'ha avuta neppure per difendersi. Io sono Silvia, benvenuti in rubrica notturna. Oggi tocca a uno di voi lanciare la sigla. Buongiorno ragazze, finalmente ce l'abbiamo fatta. Sono Aldo, lui è Lucchi, il mio bel micione, e insieme volevamo annunciare la vostra meravigliosa sigla. Oggi vi raccontiamo la storia di una giovane donna all'apice della sua carriera, la cui vita viene interrotta bruscamente. Lei è Ruslana Koshunova, una modella russa nata in Kazakistan il 2 luglio del 1987. Il padre di Ruslana, Sergei, morirà nel 1992 quando lei ha solo 5 anni. Quando lei ha solo 5 anni, sua madre Valentina e suo fratello maggiore Rusla vivevano in Almata. Pare che dopo la morte del padre la figlia non se la passasse molto bene e la madre da sola ovviamente doveva mandare avanti la casa e non far mancare niente ai suoi due figli. Ogni mattina infatti Valentina portava Ruslana a scuola al centro in città. Gli studi per fortuna ne permetteranno così di imparare anche molto bene la lingua tedesca e questo poteva sicuramente essere d'aiuto per il suo futuro. Pare tuttavia che a scuola la bambina facesse davvero fatica ad ambientarsi. I compagni pare la prendessero in giro per i suoi capelli lunghi e la mettevano da parte. C'è adesso anche per i capelli lunghi? Ti prendono in giro? Si sa a volte come sono i ragazzini. Pare anche si facesse chiamare Lena perché Ruslana era un nome troppo particolare e non voleva dare troppo nell'occhio. Così all'età di 14 anni Ruslana frequenterà un campo estivo sempre per imparare la lingua tedesca ed è qui che incontrerà Eva Baker. A quel tempo la donna lavorava come capo redattore di una rivista realizzata per una compagnia aerea. Eva rimarrà colpita dalla giovane e le chiederà di posare per delle foto proprio per quella rivista. Lei acconsentirà, anche se poi la rivista non sappiamo perché, deciderà di non pubblicare quelle foto. Gli scatti di Ruslana arriveranno ad altre riviste. Così avrà l'occasione di potersi fare conoscere e verrà notata da un agente di un'agenzia di modelle internazionale. Pensate, dunque è proprio in questo modo che la vita della giovane prenderà una piega completamente diversa. Sì, perché una volta notata sarà lanciata nel mondo della moda e presto per Ruslana arriverà anche la svolta fortunata per la sua vita, ovvero... Sarà scoperta dall'agenzia Model One, un'agenzia di moda inglese, una delle più importanti agenzie di modelle di tutta Europa. Ruslana è bellissima e poi parla anche correttamente il russo, l'inglese, il francese, il tedesco, il tedesco, scuola. Dunque è il volto perfetto per essere lanciata nel mondo della moda. Era il 2003 quando Debbie Jones vedrà in questa giovane donna un grande potenziale da sfruttare, ovviamente. Sarà scoperta appunto quindi nel 2003 dalla rivista All Asia e a soli 15 anni, quindi ancora molto giovane, come appunto richiede questo tipo di professione, sarà presa dall'agenzia Model One. Sarà presto soprannominata la Rapunzel russa per i suoi capelli, così lunghi che questa volta le hanno dato un grandissimo vantaggio e non invece il fatto di essere schermita. Ben presto infatti Ruslana sarà rappresentata da agenzie come IMG, l'agenzia statunitense, i casting di Mosca e Beatrice in Italia. La ragazza sfilerà per i più importanti brand del mondo, tra cui Kenzo, Ferretim, Dior, solo per citarne alcuni, darvi qualche idea. Sarà poi immortalata anche in riviste di moda, come la versione russa di Vogue, per tantissime tantissime altre. Insomma, davvero una bella giovane donna. Insomma, la sua bellezza ovviamente la farà diventare ben presto molto richiesta e poi la particolarità dei suoi capelli appunto le daranno anche questo soprannome che la fa conoscere ancora di più. Il 29 giugno del 2008, verso le 2.30 del pomeriggio, Ruslana cadrà dal balcone, dal nono piano del suo appartamento, nel quale viveva da un paio di mesi. La polizia del distritto di Manhattan, che svolgerà le prime indagini, non troverà praticamente niente. Non troverà segni di effrazione all'interno dell'appartamento e soprattutto non verranno trovati segni di violenza sulla ragazza. Ma allora, che cosa è successo a Ruslana? Perché avrebbe dovuto buttarsi da quel balcone? Qualcuno riferirà che il corpo distava circa 8 metri dal palazzo e questo poteva indicare solo una cosa, ovvero che la ragazza non era semplicemente caduta ma che avesse preso la rincorsa prima di gettarsi di sotto. Poteva anche dimostrare che forse qualcuno l'aveva spinta. Sì. C'è però da sottolineare che il palazzo stava subendo dei lavori di ristrutturazione e dunque era coperto da un telo e questo non poteva in teoria aiutare a frenare la caduta? Sì. Attraverso quel telo ovviamente non sarebbe potuta passare, qualcuno ha dovuto tagliarlo il telo. Ah. Infatti se qualcuno avesse voluto buttarsi di sotto in quel frangente avrebbe comunque dovuto rompere quella barriera. Esatto. Sicuramente la vita di modella non è una vita facile. Sono molti i sacrifici che una ragazza deve fare per seguire gli standard richiesti dall'industria della moda. Forse allora Ruslana non aveva retto lo stress che era conseguito alla scalata di questo suo lavoro. Forse l'aveva portata così tanto allo stress da fare quel gesto. Ecco perché si penserà a un suicidio da parte della giovane. Ma è davvero così? Un'amica di Ruslana dichiarerà che era appena tornata da una sfilata in Parigi. Dirà che era felice di quell'esperienza. Lo si poteva leggere addirittura dalla sua espressione. Non avrebbe avuto dunque nessun tipo di motivo per fare quel gesto assurdo. Eppure non sembra essere come dire rose e fiori perché nel 2008 Ruslana scriverà su uno dei suoi social che si sentiva persa e che non sapeva se un giorno si sarebbe ritrovata. Dunque questa non era una frase che dimostra forse inadeguatezza di fronte a tutte queste difficoltà oppure era solo un momento di sconforto. Capita a tutti no? Ad un esame del corpo di Ruslana non risulterà nessun segno di violenza. Ruslana non aveva tracce sotto le unghie. Tracce che di solito sono compatibili con una tentata difesa in caso di aggressione. E sua madre Valentina infatti, Kutagnova, non crederà al fatto che la figlia si fosse tolta la vita. Però lo vediamo molto spesso che i genitori non sono mai concordi quando per il proprio figlio viene considerato un suicidio. Certo, circa un anno prima la ragazza le aveva accennato a qualche problema sul lavoro e al fatto che volesse lasciare il mondo delle modelle. Ma poi nell'ultimo periodo non aveva detto più nulla a riguardo. E dunque per questo motivo la madre era convinta che la figlia avesse risolto i suoi problemi, che tutto quello che aveva creduto in quel momento era passato, forse aveva vissuto soltanto un momento di stress. Quando però il corpo sarà portato alla sala mortuaria per essere sistemato in funzione ovviamente della cerimonia funebre, chi si occuperà della ragazza dichiarerà una cosa molto particolare, ovvero dirà infatti che i suoi capelli erano più corti del solito. Certo, l'impatto con l'asfalto dopo la caduta avrebbe potuto danneggiarli, ma di certo non tagliarli all'estremità così come erano apparsi. Infatti sembravano proprio essere stati tagliati ma in maniera frettolosa, con diverse scale irregolari. Ma chi aveva potuto fare una cosa di questo tipo a questa modella? Beh, forse una persona che voleva interferire magari sulla sua bellezza, mortificare l'oggetto del suo grande successo. Sì, perché ricordiamoci che appunto erano stati i capelli di Ruslana a farla rendere così popolare, così famosa e stravagante. Oppure era stata lei stessa a tagliarsi di malamente in un gesto di rabbia e frustrazione. Eppure, secondo le dichiarazioni dei testimoni sentite dalle autorità in sede di indagine, nessuno di sospetto si era mai aggirato nei pressi del suo appartamento, della ragazza in Wall Street. L'ingresso sul retro quindi era visibile anche dal portiere, che non aveva notato niente immagino. No, un certo Mohamed Nakide, insomma il portiere, avrebbe visto qualcuno se si fosse presentato all'appartamento di Ruslana. Il 7 luglio del 2008 la ragazza sarà seppellita nel cemitero di Kovansko, in Mosca. Il produttore e regista britannico, un certo Peter Pomerantsev, teorizzerà che la morte di Ruslana fosse dovuta a un suo collegamento con Rose of the World. Spieghiamo meglio di cosa si tratta. Rose of the World è un'organizzazione con stedia a Mosca, fondata da un certo Vladislav Novgorodsev. Il corso, tenuto da questa Rose of the World, doveva formare le persone attraverso un percorso di crescita motivazionale. In effetti la ragazza, Ruslana, aveva trascorso ben tre mesi presso questa organizzazione per frequentare queste sessioni di formazione, ma quante persone lo fanno? Frequentano questi corsi motivazionali? Molte. Eppure i metodi insegnati da questa organizzazione sono stati oggetto di molte azioni legali. Sì, per i danni mentali che in teoria creavano in tutti gli Stati Uniti durante gli anni Ottanta. Ruslana aveva partecipato a queste sedute insieme ad un'altra amica, anch'essa ovviamente modella, una certa Anastasia Dostrova. Questa ragazza si suiciderà nel 2009. In circostanze purtroppo molto simili a quelle accorse a Ruslana. Insomma, anche lei si getterà dal suo appartamento, dunque ci chiediamo, è soltanto una coincidenza? Secondo Olga, la madre di Anastasia, la ragazza era cambiata molto durante la frequentazione dei corsi di crescita personale. Era diventata molto lunatica. Si aveva perso anche molto peso e parlava spesso del suo desiderio di morire. Amici delle ragazze però riferiranno che entrambe le modelle, dopo qualche mese durante questa frequentazione di questo corso, avevano cambiato il loro normale atteggiamento. Ruslana era diventata nervosa e scostante. Anastasia invece, la sua amica, aveva degli sbalzi di umore. Pare che l'organizzazione usasse delle droghe durante le proprie sessioni e che una volta fuori la sospensione dall'uso di queste sostanze creasse una sorta di crollo fisico ed emotivo. Beh, ci sta in effetti. Ruslana infatti aveva perso anche molto peso, nonostante la sua figura fosse già ovviamente molto già longe linea. E poi aveva scritto quei post sui suoi social in cui mostrava di stare vivendo, come abbiamo visto, una situazione di disagio. Un testimone dirà di aver sentito un tonfo molto forte e di avere pensato che un'auto avesse addirittura investito una persona. Poi invece però si era voltato e aveva visto che c'era la giovane a terra. È il 28 giugno e sono le ore 14.30. È un sabato e in Water Street non c'è praticamente nessuno. Nell'appartamento della ragazza dove si trova il nono piano non c'è segno di affrazione o di lotta. Dunque nessuno è entrato in quell'appartamento. Verrà anche confermato, come abbiamo visto, dal portiere che non aveva notato nessuno entrare nell'alloggio. E poi all'interno dell'appartamento non ci sono molti effetti personali della ragazza perché Ruslana era spesso in viaggio e in quell'appartamento praticamente non aveva neanche avuto il tempo di viverlo, di arredarlo con le sue cose. L'autopsia rivelerà che Ruslana non aveva presenza di sostanze nel sangue al momento della sua morte e nelle urine non c'era nessuna traccia di null'altro. Non aveva però lasciato neanche un biglietto. Strano. Tanti però lo fanno. E Ruslana lascia dunque la vita, pensate, a soli 20 anni. E il pensiero torna non solo alle difficoltà di cavarsela in un ambiente altamente competitivo e frustrante in cui devi sempre per forza essere all'altezza della situazione e spiccare sopra gli altri ma devi anche essere perfetta e non mostrare debolezze. A parte che tutti gli ambienti di lavoro però hanno delle richieste piuttosto specifiche e ognuno ha delle difficoltà quindi forse basta soltanto un po' di forza d'animo e di coraggio per riuscire ad affrontarle. In ogni caso forse era proprio per questo che il programma di crescita personale tra le modelle andava molto molto in voga. Era necessario insomma per loro trovare il modo di credere in se stesse e di poter raggiungere senza difficoltà i propri obiettivi. Non c'è niente di male in questo. In questi incontri in cui almeno una quarantina di ragazze parlavano dei propri problemi, di abusi, di delusioni amorose, Ruslana parlerà anche lei delle sue difficoltà ovviamente come facevano tutti gli altri, di cos'altro, cosa raccontavano, di come per esempio avesse sofferto per la morte del padre e di come una storia d'amore non fosse andata bene come sperava. Davanti alla platea del Rose on the World, Ruslana scoppierà addirittura a piangere e pare che la giovane si fosse innamorata di un magnate che però non aveva corrisposto assolutamente il suo sentimento. Sì, un certo Mark Kaminsky, non sappiamo perché non avesse corrisposto i sentimenti di Ruslana, pare tuttavia che Ruslana avesse trascorso l'ultima notte in compagnia del suo ex fidanzato, un certo Artion Perciunovok, e avessero guardato un film. Tuttavia Ruslana non aveva mai parlato delle sue relazioni e dopo la morte gli uomini della sua vita non si faranno neanche avanti, ma questo non ci stupisce affatto. No. E questo contribuirà ovviamente anche a lasciare intorno alla ragazza un velo di mistero, anche se pare molto strano che le autorità non abbiano sentito queste persone per cercare di fare chiarezza sul caso. Ma strano che non le abbiano però neanche interpellate, beh hanno dichiarato il caso già un suicidio, e poi grazie a rivederci. Infatti è anche vero che quando una morte viene etichettata come suicidio le indagini rimangono sempre purtroppo ad uno stadio molto superficiale. Nonostante sì, però i familiari si oppongono e non credono a quella soluzione, a quella risoluzione, non se ne fa niente, cioè se ne fregano tutti. Gli incontri di questa serie a cui partecipava Ruslana erano tre sessioni, ma le ragazze, Ruslana, l'amica modella e Anastasia prolungheranno quelle sessioni perché avevano trovato pare un ambiente che le facesse sentire bene, che le dava coraggio, dove potevano parlare dei propri problemi, e pareva proprio che qualcuno si preoccupasse realmente di loro e di come si presentavano. Non della loro immagine pubblica, dunque questo per loro era una grande bella differenza. Tuttavia però forse le ragazze non sapevano che contro questa organizzazione erano nate numerose segnalazioni da parte di ex aderenti per danni mentali, come abbiamo già accennato prima. E come abbiamo visto questa cosa causerà anche la chiusura della sezione statunitense di Rose of the War nel 1980. Però questo non impedirà all'associazione di continuare con questi corsi. Il giornalista britannico Peter Pomeranz deciderà di indagare sulla morte di Ruslana e sulla Rose of the War, l'associazione che promuoveva questi corsi di crescita personale. E per farlo chiederà l'aiuto di Elena Kostyuchenko, giornalista russa. Lui voleva che la giornalista riuscisse a filmare quello che avvenisse durante questi incontri dei corsi di crescita personale. Insomma si voleva far chiarezza, si voleva capire bene come si svolgevano al proprio interno. Tuttavia Elena dal momento che sapeva che al suo interno alle persone veniva fatto una sorta di lavaggio di cervello crederà che non fosse possibile attuare quel piano. E così? Così deciderà di partecipare lei stessa alle sessioni facendo finta di essere una interessata proprio a quel corso. Ma lei lo faceva solo per capire che cosa succedesse davvero al suo interno. Praticamente farlo infiltrata. In quel momento Elena aveva 21 anni e stava per laurearsi e poi anche lavorava per un giornale indipendente chiamato Nuova Gazzetta. Dunque Elena ha una vita soddisfacente e di certo non teme di partecipare a quei corsi nonostante le dicerie. Quelli potevano influenzare le persone fragili quelle che avevano qualche problema quelle che non avevano la forza di combattere i propri problemi. Eppure cosa capiterà? Eppure durante quei quattro giorni di corso Elena non ricorderà molto di quello che aveva vissuto. E allora lì c'è qualcosa di strano davvero. Ricorderà solo che il formatore l'aveva umiliata insieme agli altri membri del gruppo. Eppure uscita dal corso si sentirà come se sapesse qualcosa che gli altri non potevano sapere. In che senso? Dirà di provare questa sensazione che descrive già lei stessa come strana soprattutto perché non sarà in grado di descriverla bene. La sua fidanzata e psicologa impedirà a Elena assolutamente di continuare a partecipare a quei corsi. Insomma, era evidente che tutti, anche coloro che avevano una propria integrità morale e mentale potessero uscire da quell'ambiente cambiati. E non era detto ovviamente che il cambiamento sarebbe stato positivo come sarebbe dovuto essere. Il comportamento della giornalista cambierà talmente tanto da costringere a portarla a una visita psichiatrica. Penso un po'. Elena era diventata depressa e parlava addirittura di suicidio ma solo quattro giorni dopo. Sì, sono bastati quattro giorni. Le cure faranno il loro corso eppure si dirà che Elena non tornerà più la donna di prima. Con solo 21 anni quattro giorni di corso ti rovinano così l'esistenza. Era soggetta spesso a momenti di depressione. Probabilmente operavano con questa sorta di lavaggio del cervello. Ma secondo me somministravano stase. Quindi qualcosa di certo. Impediva ai partecipati di tornare alla normalità. Perché insomma non possono essere delle semplici parole a stravolgerti la vita e a cambiarti la vita così. Sì, perché come abbiamo capito pare proprio che il problema di tutto sia partecipare a quei corsi di Rose of the War. Forse allora è da ricercare proprio il motivo lì dentro della morte della modella di Ruslana. Forse davvero si è buttata ma grazie alla complicità all'influenza di quello che è capitato durante questi corsi. Sì. Insomma, il caso comunque è stato chiuso come un sicilio e ovviamente l'organizzazione non è mai stata indagata per la morte di Ruslana. Perché? Nonostante ci fossero dei precedenti controversi di cui appunto abbiamo già parlato probabilmente non ci sono le prove di un lavaggio del cervello. Come fai a provare che avviene un lavaggio del cervello durante delle sessioni di incontri? Metti un'infiltrata di nuovo che non sia una giornalista di 20 anni e verifichi da FBI come può essere la situazione. Non trovate che forse se avessero solo voluto le autorità avrebbero potuto accertare davvero quanta responsabilità avesse questa organizzazione e questi corsi motivazionali? Ovviamente chi è stato vicino a Ruslana non crede al suo desiderio di morte tantomeno come abbiamo visto la madre eppure al momento il caso è chiuso. Una donna bellissima una giovane donna dobbiamo dire con una carriera promettente ha perso la vita così senza un apparente motivo e nessuno può fare niente per cambiare la realtà dei fatti è davvero frustrante questa cosa. La storia di oggi finisce qui. Voi che cosa pensate di questo caso? Credete che davvero sia possibile modificare la mentalità il corso degli eventi la sensibilità l'umore gli atteggiamenti di una persona con dei corsi dove forse però ti vengono somministrate delle sostanze? Fatecelo sapere aspettiamo di leggervi come sempre nei commenti grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia vi ricordiamo l'appuntamento della domenica sera con Notturno Crime alle ore 21 dove si parla esclusivamente di crime italiano dunque vi aspettiamo e se non lo avete ancora fatto mandateci il vostro intro per la sigla perché a noi piace tantissimo potervi conoscere e finalmente vedervi in volto mandateci il vostro contributo a rubrica notturna chiocciolagmail.com noi ci vediamo al prossimo video anzi alla prossima indagine ragazzi grazie grazie ad averci seguito fino a qui le crime ber chiudono e sempre vi ricordano occhio all'estralia nonizze nonizze nonizze